Tre sconfitte di fila in campionato intervallate soltanto dal buon successo all'esordio in Euro Cup. Anche a San Martino di Lupari le Aquile sono uscite sconfitte al termine di una partita nella quale Van Loo e compagni hanno alternato ottimi momenti ed autentici blackout che hanno portato le padrone di casa a scappare nel punteggio. Ragusa resta soli quattro punti in classifica e vede allontanarsi anche la possibilità della qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Sarebbe la prima volta da quando la squadra del presidente Gian Stefano Passalacqua in Serie A1 ma se la delusione è certamente tantissima altrettante la voglia di rifarsi il più presto possibile a partire da giovedì prossimo quando la squadra farà il suo esordio casalingo in una competizione europea. Probabilmente la partita di Supercoppa a Schio ha fatto perdere di vista la realtà e in aggiunta le due prime partite di campionato non ci hanno sicuramente aiutato se non dal punto di vista della classifica ma certamente non da quello delle cose da risolvere afferma coach Lambruschi. Non dobbiamo dimenticare che siamo una squadra con sette giocatrici nuove e un conto è dare un gioco un altro è dare uno spirito comune una voglia di lottare insieme. Ovviamente nessuna scusa ma la differenza tra noi e altre squadre è proprio quella dell'essere più o meno rodate dallo stare insieme cosa che ti aiuta nei momenti di difficoltà e noi come a San Martino nei momenti di difficoltà ci siamo disuniti. Intanto la squadra attesa da quattro partite casalinghe consecutive il primo impegno è quello di giovedì 3 novembre alle 20.30 in Euro Cup con il Nantes. Seguirà quello di domenica 6 col Torino quindi il 9 si giocherà ancora al Palaminardi contro il Ninebook per finire sabato 12 alle 20.30 le Aquile saranno impegnate ancora in casa con Umbertide. Grazie a tutti.